cari amici del rock e no buonasera a tutti questa sera mi dedico a uno dei miei tanti hobby che è la batteria come vedete gli effetti della quarantena inizia a far sentire donne saldi per tutte dai a parte gli scherzi questa sera suonerò una canzone degli stile stile dei quali io sono un batterista alla chitarra c'è carlo ligi ex times mirror e possess cover band pantera al basso carlo mancoso degli anima del legno alla voce luca tanda che è l'unico forestiero perché non è serramanese e non so che tutto abbia combinato e per la batteria io nel medesimo tale cuore sul scimbo del gruppo ex auto ford ex pantera con i posses stasera suonerò un remore speriamo che vi piaccia vedremo un attimino di intrattenervi buon ascolto ragazzi e poi ci sono un'amore speriamo che non ci sono un'amore speriamo fuori non ci sono un'amore speriamo che Grazie a tutti. 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 E questo è tutto. Comunque io mi chiamo Antonio Melis. Ciao a tutti.